è difficile presentare per il filmatio di un'altra di Sinti di Pagli è un'altra di me, la di Sinti di Pagli è un'altra di me, la di Sinti di Pagliari del 56, Loretta e Amore Grazie 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 Poletana, prima di accompagnarti dalla nostra Cristina per l'intervista, volevo lanciare con te un video di Marco Mangiarotti e subito dopo torniamo assolutamente sì. Buonasera a tutti, sono molto felice di essere qui, questa è la mia prima benedizione nel cantare in questo evento per mio Martini, quindi per me sicuramente rappresenterà qualcosa di molto più significativo. Era un artista che sicuramente ha voluto pagare con la vita quello che probabilmente nessuno ha il coraggio di poi giustificare, è quella cattiveria pensata e giocata e studiata, le ha voluto propositamente pagare con la vita, però a tutto c'è un senso e c'è un posto, quindi viva Mimì, viva la musica e viva l'intelligenza. Grazie. 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 Grazie.